Anche Palla Canestro Biella inizia a muovere le prime pedine in vista della nuova stagione. L'Assemblea dei Soci ha comunicato la ricapitalizzazione di circa 150.000 euro che consentirà alla società di iscriversi al prossimo campionato di Serie 2, puntare sui giovani e cercare di emozionare il pubblico biellese, questi gli obiettivi dichiarati. Intanto i primi movimenti di mercato. Il neopromosso general manager Damiano Olla aveva già anticipato ai nostri microfoni le probabilissime conferme di Nicola Berdini, in prestito dalla Reier Venezia, e di Luca Vincini, riscattato dal Cusso e Torino. Contestualmente, la bella notizia è l'ulteriore conferma di Matteo Pollone, prodotto del vivaio rosso-blu e probabile nuovo capitano della truppa di Coce Zanchi. La guardia è reduce da una serie salvezza contro Rieti, semplicemente straordinaria per dedizione, spirito di sacrificio e mentalità difensiva. Un ottimo colpo senza dubbio. Il GM Olla ha dichiarato «La conferma di Matteo era in cima alle nostre priorità, per dare continuità tecnica al progetto, senza dimenticare l'importanza che ha all'interno del gruppo. Quest'anno avrà un ruolo sempre più importante nelle rotazioni e sono sicuro che questa sia la scelta migliore per lui, per continuare il suo percorso di crescita in un contesto che conosce molto bene, ma anche per la squadra. Sono molto felice di poter continuare a indossare questa maglia e far parte di una grande famiglia come quella rosso-blu, dichiara Pollone. Non vedo l'ora di poter giocare davanti al pubblico, sperando che quest'anno potranno essere presenti al forum senza restrizioni per darci il loro impagabile sostegno». Il volto nuovo, invece, il primo dopo quello del coach, è quello di Alessandro Morgillo. Si tratta di un lungo, classe 1999, 2,04 m di altezza. Nato e cresciuto a Napoli, ha debuttato giovanissimo in Serie A con Pesaro. Poi, tante esperienze in giro per la penisola, da Salerno a Senigallia a Verona. In questa stagione, a Tortona, seppure da comprimario, ha conquistato la Serie A. Scampoli di gara, pochi minuti e cifre basse, ma Abiella avrà modo di mettersi in mostra. Sempre Olla dà il benvenuto a Morgillo. Alessandro è stata una delle nostre prime scelte. Nonostante la sua giovane età, può già contare su un bagaglio di esperienza notevole. Abiella potrà continuare il suo percorso di crescita e maturazione. Siamo molto felici di poterlo avere con noi per questa stagione, dove gli verrà chiesto un ulteriore step in avanti in termini di responsabilità.